Mi vengono alcune riflessioni rispetto alle cose che avete detto, ma innanzitutto una di carattere istituzionale a questo tavolo ci sono forse gli interlocutori che sulla città di Brà contribuiscono in maniera prevalente al prodotto interno della città, il prodotto interno lordo, il numero di dipendenti e famiglie che ad esempio sono dipendenti delle nostre istituzioni, metto il Comune, metto l'ASCOM che in questi anni ha fatto una crescita importante, metto la cassa di risparmio di Brà che comunque ha 200 dipendenti sul territorio e creano un valore aggiunto quotidiano alla città di Brà, peraltro con obiettivi focalizzati sul territorio perché occupazione diretta di alcune multinazionali ad esempio che contribuiscono alla ricchezza della città non sono rientrate direttamente allo sviluppo del territorio ma ad esempio all'esportazione, ne conosciamo alcune e il nostro invece è un obiettivo di sviluppo e crescita del territorio di una città con finalità differenti, ovviamente l'associazione di categoria fa il proprio, il Comune fa il proprio, la banca deve sostenere lo sviluppo economico del territorio. Rispetto al tema del sottocasa che tra l'altro è richiamato secondo me in modo molto efficace nel payout della comunicazione, ecco io devo dire che per quello che al mio osservatorio ho dei dati molto confortanti da questo punto di vista perché c'è un forte ritorno al commercio di prossimità questo per i dati economici deve essere valutato e analizzato con attenzione c'è una grande distribuzione in grossa crisi perché devo dirvi che questo è abbastanza evidente nei dati e nei bilanci che i colossi della grande distribuzione presentano c'è un cambiamento di modello sociale di riferimento noi siamo sempre più legati a dinamiche individuali di relazione, l'hai detto bene tu, a tempistiche a velocità molto più rapide per cui anche i nostri modelli di consumo stanno cambiando, ognuno di noi cerca sempre di più una relazione comoda a portata che ci consente di soddisfare i nostri bisogni. In questo la cassa, non da oggi ma da decine di anni collabora con il Comune, con l'associazione di categoria ha fatto la propria parte perché sicuramente il percorso di cambiamento che abbiamo fatto in questi sei anni ha consentito non solo la sopravvivenza all'istituzione che è un fatto, come abbiamo imparato in questi mesi, non scontato pensiamo che bra forse al top della presenza di sportelli bancari aveva 20 sportelli bancari aperti sul territorio oggi gran parte di quegli interlocutori hanno chiuso i battenti, fino a una cosa impensabile anche solo pochi anni fa la cassa si è consolidata, ha cambiato pelle, oggi noi portiamo come nostro contributo ai consumi cittadini l'esempio del prestito erogato in 24 ore erogare un prestito in 24 ore ovviamente richiede una piattaforma tecnologica e investimenti che il nostro gruppo ha fatto a beneficio di economie di scala molto più grandi non è una cosa così scontata, è una cosa che avviene, è concreta, reale le nostre filiali con due o tre documenti oggi puoi avere 10.000 euro sul conto il giorno dopo e soprattutto per piccoli importi, piccole cifre che poi sono quelli che ci servono per far girare l'economia locale penso che averlo fatto e averlo pensato specifico per questa iniziativa sia stato un contributo utile anche in prospettiva poi di quelle che saranno le manifestazioni che ha ricordato Luigi, sia del Barocco che poi CIS sulla quale tra l'altro noi abbiamo storicamente una presenza di main sponsor che verrà confermata anche quest'anno è un evento internazionale dove abbiamo la possibilità veramente a tutte le latitudini di far conoscere la nostra presenza, la nostra origine in tutto il mondo per noi il settore del commercio anche se non lo è per la maggior parte del settore bancario è un settore target, è un settore target perché ha delle caratteristiche di prossimità che sono quelle che noi abbiamo nel nostro DNA è un settore però che va assistito con servizi digitalizzati di qualità è quello che noi stiamo provando a fare abbiamo a disposizione sicuramente soluzioni innovative dal punto di vista delle transazioni, dei sistemi di pagamento e soprattutto per quanto riguarda quello che oggi è inevitabile cioè il sostegno agli investimenti da parte dei commercianti e comunque degli interlocutori che gravitano in tutto il mondo del commercio quindi per noi questo è un simbolo di una conferma di presenza non solo sul territorio ma di vicinanza al settore del commercio e che conferma anche la tradizionale collaborazione che noi abbiamo avuto col colune mai venuta meno in questi anni e quindi per cercare di mantenere questo circolo virtuoso di economia territoriale quindi questo ha portato anche ai risultati di bilancio di quest'anno che sono stati per la cassa molto positivi noi abbiamo più di 175 anni e quest'anno abbiamo chiuso il miglior bilancio della storia della banca quindi questo fa sicuramente piacere dirlo non tanto per me ma per il contributo delle persone che tutti i giorni cercano di lavorare con efficienza e con impegno tra l'altro è